Musica Piazza Cittadella, mercoledì via ai lavori, si inizia con i carotaggi, il cantiere vero e proprio partirà in estate dopo un percorso partecipato con i cittadini. Salvi dai rifiuti di Verona, un decreto urgente del governo ha scongiurato l'arrivo dell'indifferenziato dalla città scaligera all'impianto di Piacenza. Comune, fuoco amico contro dosi, attacco al sindaco dai consiglieri di maggioranza Colla e Pascai. Abbiamo fatto poco, serve una scossa, il tempo del rodaggio è finito. Aumenteremo gli abbattimenti di cinghiali, la provincia ha fornito i dati relativi agli interventi in Val d'Arda dopo l'ennesimo incidente provocato da un cinghiale. Case popolari, 100 domande in meno, si chiude domani il termine per presentare le richieste per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, 557 le domande contro le 650 dell'anno scorso. Cittadella degli Alpini, Aldaturi, in occasione dell'adunata nazionale di maggio, verrà allestita per quattro giorni l'esposizione delle truppe alpine, attesi 50.000 visitatori. Rebecca Nord, meccanica domani in campo, dopo la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, le ragazze del volley saranno di nuovo impegnate domani sera al Palabanca per la Challenge Cup.